Antonio Argentieri, presidente del gruppo Cosmetici e Erboristeria di Cosmetica Italia, al sana l'appuntamento che lei segue sempre da vicino, Cosmetici, Erboristeria e Biologico. Da tantissimo tempo si fanno, quanta ricerca c'è e perché piacciono così tanto al pubblico? Ecco, noi partecipiamo da sempre a questa fiera come associazione confindustriale, il sana è la nostra fiera di riferimento. Partecipiamo, come ho detto, da sempre perché il consumatore è sempre più diretto verso cosmetici di derivazione naturale, biologica, rispetto dell'ambiente, sostenibilità, è un movimento quasi sociale della società in questa direzione. Le nostre aziende che fabbricano e producono e vendono cosmetici di questa caratteristica, ovviamente risentano di quest'onda, diciamo, positiva che sale. Noi investiamo in ricerca cifre notevolissime vicino a quello che si investe in pubblicità. Nel nostro settore la ricerca è ovviamente specifica nel campo delle sostanze di derivazione naturale, biologiche, certificate in tutto questo mondo che il consumatore senza fare grosse distinzioni considera un mondo un po' unitario ma corrispondente alle esigenze della società moderna.